In una logica più di Tower as a Service, cioè di torre al servizio dei territori, torre che è alleata dei territori e dei comuni nel contribuire per esempio a fare monitoraggio ambientale, monitoraggio del territorio, monitoraggio degli incendi boschivi piuttosto che dell'inquinamento atmosferico. Laurea in Economia all'Università Sapienza di Roma, giornalista, docente di Master in Lobbying, Public Affairs e Comunicazione d'Impresa, ha lavorato per diverse grandi aziende come Vodafone e Leonardo, oggi è direttore Relazioni Esterne, Sostenibilità e Comunicazione di Inuit. Chi è Michelangelo Suigo e cosa ti ha condotto a intraprendere questo percorso professionale? Michelangelo Suigo è una persona leale, trasparente, una persona che ha grande passione per il proprio lavoro ed è molto curiosa. Credo che questi ingredienti abbiano portato poi il mio percorso professionale ad arrivare al punto nel quale mi trovo in Inuit, quindi in particolare ad occuparmi di relazioni esterne, di comunicazione, di sostenibilità, di relazioni con le istituzioni. La curiosità, la voglia, la passione di confrontarmi con mondi anche diversi tra di loro ha fatto sì che per una serie di circostanze anche fortunose, con grande determinazione, grande concentrazione, ma anche con tanta fortuna, perché quella non guasta mai, sia riuscito a costruire un percorso che per il momento mi soddisfa molto. Quindi come dicevamo tu ricopri un ruolo chiave avendo a che fare molto spesso con decision maker e regolatori per conto di Inuit che ricordiamo è il principale tower operator in Italia per le infrastrutture nell'ambito delle telecomunicazioni wireless. Ora molto spesso, troppo spesso, si sottolinea quanto l'Italia fatichi nel proprio processo di digitalizzazione. Questa cosa viene anche un po' sottolineata nel recente report della Commissione Europea, il DESI che sicuramente conosci, che offre un quadro generale dello stato della digitalizzazione in Europa, collocandoci al diciottesimo posto su 27. C'è da dire però che c'è stato un miglioramento nell'ultimo report e questo miglioramento è stato dovuto all'indice di connettività, cioè alla copertura che si riesce a dare attraverso la banda larga. Tu godi in quanto Inuit di un osservatorio privilegiato, mi riesci a fornire più o meno una panoramica dello stato degli investimenti infrastrutturali che ci saranno nel nostro paese nel prossimo futuro? Ovviamente quali sono i benefici e va detto anche quali possono essere eventualmente le complessità, perché sappiamo che l'Italia quando si parla di infrastrutture i processi non sono sempre snellissimi. Se parliamo di investimenti nel nostro paese pensiamo fondamentalmente alla capacità di attrazione degli investimenti, in particolare degli investimenti esteri, ma non solo, quindi proprio alla capacità del sistema paese di essere attrattivo e non respingere al contrario creando istruzionismi e burocrazia gli investimenti, in particolare nella realizzazione delle infrastrutture a cui facevi riferimento te. Se pensiamo agli investimenti, pensiamo sicuramente in particolare agli investimenti in infrastrutture, alla capacità del nostro paese, del nostro sistema di non creare ostruzionismi, non creare burocrazia, che al contrario allontana la capacità realizzativa delle infrastrutture nel nostro paese. Ecco che vediamo che una pietra miliare è rappresentata senz'altro dall'opportunità straordinaria che ci è offerta dal PNRR e dal Next Generation EU, che consente una serie di strumenti sia dal punto di vista delle riforme sia dal punto di vista naturalmente delle risorse per far recuperare quel gap infrastrutturale che il nostro paese oggettivamente ha rispetto sicuramente a dei competitori europei. Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, quindi le infrastrutture di cui anche Ingrid si occupa, le torri delle telecomunicazioni, ma non solo, la banda ultralarga, quindi la fibra ottica e tutte le infrastrutture digitali che possono consentire al Paese, alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini di essere sempre più connessi, sempre più in grado di poter interagire non solo tra di loro, ma anche ovviamente rispetto al resto degli stakeholder globali. Riscontriamo ancora passi importanti nella direzione sicuramente del superamento degli ostacoli e dei problemi, ma ancora riscontriamo tante difficoltà e tante criticità. Noi come Ingrid cerchiamo chiaramente di fare la nostra parte e siamo un tassello, riteniamo significative, sempre più all'interno dell'ecosistema digitale, chiaramente lo facciamo con un piano di investimenti di 900 milioni di Euro nel nostro piano industriale, che è volto proprio a cercare di digitalizzare sempre di più il nostro Paese e consentire ai nostri clienti, gli operatori di telecomunicazioni, di beneficiare di un modello di business efficiente che riduce i costi e che riduce se vogliamo anche il consumo del territorio e delle risorse. Il business model di Ingrid è proprio un modello di business che vede nella condivisione, nello sharing delle infrastrutture è proprio la chiave vincente proprio per riuscire a coniugare trasformazione digitale e trasformazione ecologica. Tu hai toccato un aspetto molto rilevante, diamo per scontato quindi, l'abbiamo sottolineato più volte, che le infrastrutture ovviamente sono l'elemento chiave cruciale per la crescita, l'emancipazione della competitività di un paese e il PNRR sicuramente può rappresentare un veicolo, un volano per contribuire al processo di trasformazione digitale, specialmente, come dicevi tu, in certe zone che faticano un pochino ad avere attrattività economica, vuoi perché sono collocate in zone sperdute, hanno morfologie, diciamo si trovano in zone morfologicamente complesse, ecco diciamo così, però va detto che è fondamentale perché interviene su un tema che è estremamente rilevante per il nostro paese, cioè il cosiddetto digital divide. Ora, tu già hai parzialmente risposto alla mia domanda, però volevo capire bene con te, che cosa significa per voi contribuire su un tema così rilevante? Sicuramente un senso di grande orgoglio nel far parte di una risoluzione di un problema che crea distanze, crea disuguaglianze e che invece se affrontato e risolto, come in parte stiamo cercando di fare anche noi di Inuit, può portare maggiore inclusione. Assolutamente sì. Anche inclusione sociale, oltre che chiaramente inclusione economica e maggiore possibilità, chance di competizione e chance anche di equilibrio nelle opportunità dell'accesso a quanto ci può consentire la digitalizzazione. Se sono una persona che si trova in un borgo che non è connesso con il resto del mondo, ne abbiamo avuto ai noi prova durante la pandemia. Non potevo fare remote working, non potevo fare la DAD, ero completamente alienato rispetto al resto del mondo. Quindi non si è nelle condizioni di poter vivere la quotidianità come invece possono fare persone più fortunate che si trovano in luoghi connessi. Quindi ridurre o risolvere addirittura il digital divide significa sicuramente anche questo. Vi ricevo che siamo molto orgogliosi di poter contribuire perché uno dei bandi del PNRR, il bando densificazione 5G, del Piano Italia 5G, l'abbiamo aggiudicato noi in RTI con team Vodafone, significa coprire con nostre infrastrutture, quindi con torri e telecomunicazioni nuove, 1200 aree attualmente in digital divide, quindi in area fallimento di mercato, nelle quali non c'è e non ci sarebbe stato per i tre anni avvenire nessun tipo di investimento da parte di nessun operatore privato, significa coprire quelle 1200 aree. E parliamo di paesi, di comuni, in realtà spesso… Migliaia e migliaia di persone. Migliaia e migliaia, beh milioni anche di persone, assolutamente migliaia di persone. Quindi grande orgoglio per poter partecipare a questa attività, grande motivazione che ci è data anche dal fatto che per esempio abbiamo raggiunto un bellissimo accordo, un protocollo, si è creato un protocollo di intesa con UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni delle Comunità Montane, con il Presidente Bussone, proprio volto a trovare un percorso di semplificazione anche nell'iterra autorizzativo e permessistico nella realizzazione di queste infrastrutture e anche a sviluppare, laddove è possibile, laddove lo si voglia fare, delle soluzioni che tendono ad essere sempre più vicine ai territori, sempre più attenti ai bisogni dei territori. E qui poi c'è la logica dell'evoluzione della nostra mission in una logica più di Tower as a Service, cioè di torre al servizio dei territori, torre che è alleata dei territori e dei comuni nel contribuire per esempio a fare monitoraggio ambientale, monitoraggio del territorio, monitoraggio degli incendi boschivi piuttosto che dell'inquinamento atmosferico. Tanti esempi posso fornire di partnership che abbiamo. Guarda, fantastico, mi collego a quello che stavi dicendo tu ora, in quanto sempre più spesso c'è questa forte correlazione tra transizione digitale e transizione green. Ora, voi recentemente avete condotto in collaborazione con l'Istituto Piepoli, se non sbaglio, una ricerca di mercato dove sono usciti anche dei numeri interessanti, alcuni mi li sono segnati, cioè tipo l'82% degli italiani associa la sostenibilità alla digitalizzazione, il 75% all'inclusione sociale e il 72% al potenziamento delle infrastrutture. Ora, in che modo rendere il paese digitale significa renderlo anche più sostenibile? È una domanda da un milione di dollari, io direi sicuramente con cose molto concrete, cioè dando dimostrazione plastica di come, continuando e proseguendo il discorso di prima, la torre, nel nostro caso chiaramente per quella che è la nostra mission, la nostra esperienza, possa aiutare i territori, aiutare le comunità a migliorare e peraltro anche a percepire il valore dell'infrastruttura. In Italia si pensa un po' molto di più agli effetti potenzialmente negativi o comunque non positivi che un'infrastruttura può avere nel proprio circondario, prevale il concetto infatti del NIMBY, del Not In My Backyard. Io penso che bisognerebbe arrivare ad un paradosso che va all'opposto, al PIMBY, al PRISI, per favore portate le infrastrutture a casa mia perché mi servono e voglio essere nelle condizioni, come dicevamo prima, di maggiore inclusione, di poter confrontarmi con il resto del mondo. E dare anche delle possibilità alle giovani generazioni, no? Assolutamente, assolutamente in primo luogo le giovani generazioni, ma non solo, pensiamo poi invece anche magari a quante persone meno giovani vorrebbero poter stare nei propri paesi di origine, di ritornare nei borghi o stare in luoghi meno, come dire, meno stressanti e qualitativi, dal punto di vista della qualità della vita anche migliori. Dicevo, quello che cerca di fare Inuit è realizzare concretamente delle attività che dimostrino come digitalizzazione e sostenibilità viaggiano assolutamente di pari passo. Cito due esempi, la collaborazione con il VVF e con Lega Ambiente, con il VVF abbiamo iniziato ad installare, abbiamo già installato in tre oasi del VVF, sensoristica e videocamere per fare la videoserviglianza e la prevenzione degli incendi nelle loro oasi boschive. Con Lega Ambiente abbiamo installato anche qui sensori IoT, quindi apparati di sensoristica con dei gateway che quindi sono in grado poi di trasmettere i dati che vengono raccolti ha la stessa Lega Ambiente, nel caso di Lega Ambiente stessa cosa con il VVF, facciamo il monitoraggio con Lega Ambiente di tutti i parametri dell'inquinamento atmosferico in due parchi nazionali e due aree protette dell'Appennino centrale. Quindi la torre è un hub di telecomunicazioni, porta digitalizzazione, porta attraverso naturalmente i nostri clienti, gli operatori di telecomunicazioni, non da soli, porta quello sviluppo, quel vantaggio competitivo ai territori, ma porta molto di più. È in grado anche di prevenire incendi, di monitorare l'ambiente, di aiutare le comunità a stare meglio. Tower is a service nel vero senso della parola, nel vero senso della parola, nel vero senso del parola, nel vero senso della parola, nel vero senso della parola, nel vero senso della parola. Allora, Migrangelo, innanzitutto io ti ringrazio per questa breve chiacchiera, ci hai dato una visione estremamente interessante comunque dello stato dell'arte, delle infrastrutture nell'ambito delle telecomunicazioni. Però io prima di lasciarti, oramai liturgia che si è consolidata in periscopio, come ultima domanda chiedo al mio ospite se ci vuole condividere un contenuto che in qualche maniera a lui è caro, che possa essere di qualsiasi natura. Io cito sempre, può essere un libro, una newsletter, un film, un documentario di qualsiasi natura. Prego. Ma allora, vi vengono in mente tre filoni. Un primo filone è una delle mie passioni, forse la passione più calda che ho e che sono anche felice di aver trasmesso e trasferito ai miei figli, che la passione... Sto andando per intuizione. Secondo me ci arrivi, che la passione per il Toro, per il Grande Torino, per la mia squadra del cuore. Tante possono essere le letture, i libri, ma anche i film, in particolare sul Grande Torino. Sul Grande Torino di Valentino Mazzola e di quella squadra straordinaria che ha regalato dieci nazionali titolari su undici, una partita contro l'Ungheria prima o poi di... Va ricordato. ...di perire a Superga, rientrando da una partita amichevole a Lisbona. una storia incredibile. E quindi, insomma, i brividi che non posso trasmettere, però i brividi ci sono sempre sul Toro. Il secondo filone è un filone, diciamo, più romanzesco, più legato soprattutto alla mia seconda infanzia. Forse uno dei libri che mi hanno più appassionato, che ancora ho ripreso in mano anche l'altro anno e anche qui, felice di aver poi trasferito ai figli che anche loro a loro volta, che è Il Signore degli Anelli, che è un libro, secondo me, straordinario perché è un'epopea, perché ci sono, insomma, non basterebbe, credo, qualche trasmissione per... ...che livelli di lettura, diciamo, della... Assolutamente sì. E in generale, diciamo, tutta la bibliografia di Tolkien è senz'altro importante, molto, molto affascinante. E il terzo filone non può che essere, diciamo, l'altra passione, la passione per la politica, ma quella con la P maiuscola, quella alta e nobile. Qui, diciamo, un ventaglio di scelta a molto ampio, che però va da una cosa molto recente che ho letto ed è un libro bellissimo di geopolitica, ma anche di leadership, che è proprio il libro Leadership di Henry Kissinger, però non posso anche non citare un'altra pietra miliare, diciamo, che è un po' uno dei pilastri, dei baluardi, secondo me, inespugnabili, che è Predica inutile di Luigi Einaudi, con, diciamo, quello che adesso potrebbe chiamare acclaim, che all'epoca, non so nemmeno come si poteva chiamare, che è conoscere per deliberare. Conoscere per deliberare è un po' il motto, ecco. È il motto che, per certi versi, mi ha sempre accompagnato e mi spinge sempre a cercare quella curiosità di cui ti parlavo all'inizio. Allora, innanzitutto ti ringrazio di nuovo e, come dire, suggerisco a chi ci ha seguito fin qui di utilizzare proprio come pilastro di vita questo motto, conoscere per deliberare e nulla, arrivederci dall'Advocacy Hub di Milano. Ciao! Grazie!